Lentamente tutti i settori tornano alla normalità e così anche a Lecce è ripartita l'attività della Fondazione Italiana dei Sommelier che ha fatto ripartire i suoi corsi per tutti gli appassionati del settore, non solo ma anche per gli addetti ai lavori che hanno voglia di approfondire la propria conoscenza in una delle eccellenze del nostro territorio. Oggi si ritorna finalmente a fare lezioni in presenza con la Fondazione Italiana dei Sommelier e abbiamo deciso di farlo proprio per rispettare quelle che sono le aspettative dei nostri appassionati, dei nostri professionisti che si rivolgono al mondo della Fondazione Italiana dei Sommelier. Un corso che si sviluppa in tre parti, la prima parte la presentiamo questa sera ed è rivolto soprattutto a quelle persone che intendono iniziare un percorso, quindi un percorso da zero fatto di grande professionalità ma soprattutto anche di grande passione. Ci prefissiamo, siamo orientati nel voler acquisire e dare ancora più sostegno a quella che è la nostra economia soprattutto riferita al mondo del vino ma non solo, anche al mondo dell'olio e chi meglio di noi verso la ristorazione. Quindi una grande missione è la nostra, quella di portare cultura.